Questa mostra è molto importante che è testimonia di questo felice connubio fra mondo dell'arte e fra campo della salute e mondo dell'arte e poi per noi, naturalmente l'inaugurazione degli ambulatori chirurgici che attestano via più come l'ospedale sia sempre in movimento per aggiornare laddove necessario per implementare e molto importante, io ovviamente ringrazio di questo, una parte dei proventi dell'eventuale vendita delle opere sarà destinata proprio alla fondazione che come funzione essenziale è quella appunto di raccolta di fondi a favore dell'ospedale e dell'attività socio-sanitaria e del distretto sanitario. Il Volontariate tra gli obiettivi che si pone quando è nato nel 2006 aveva proprio anche questo, cercare di rendere un ambiente più confortevole, più umano, più a dimensione di persona offrendo anche alle persone la possibilità di un momento di serenità e anche di speranza, come cito in un'opera di Salvatore Danna, Hope, speranza, speranza di avere un mondo migliore per queste persone che purtroppo sono ricoverate qui da noi, un momento anche di cura e di superamento dei loro problemi. Grazie a tutti!